E' stata del 59,30% l'affluenza rilevata al termine della chiusura dei seggi che hanno visto i 108.000 piemontesi chiamati al voto. Un dato leggermente in calo rispetto alle precedenti amministrative quando l'afflusso delle persone alle urne era stato del 65,68%. Le uniche due città con oltre 15.000 abitanti nel Piemonte, Ivrea e Orbassano, che andranno al ballottaggio del 24 giugno prossimo, hanno fatto registrare in entrambe le circostanze l'uscita di scena del Movimento 5 Stelle. Ad Ivrea tra 15 giorni sarà scontro tra Maurizio Perinetti del Partito Democratico e Stefano Sertoli della Lega Nord, mentre ad Orbassano vanno al secondo turno Cinzia Bosso di Forza Italia e Giovanni Falsone della Lega Nord. Liste civiche a farla da padrone negli altri comuni del Piemonte. Trello di Piemonte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.